Sono sicuro che non è stato un incidente casuale Sei già riuscito a controllare la macchina Bravo È qui Debon Sento la sua presenza Forse lei ricorderà questa ragazza Dove li ha visti? Non sa dove posso trovarli Io ci tengo quanto lei a ritrovarli Già, proprio così Adesso voglio che sia tu a fermare Nike Che vuoi dire? Uccidilo Kit, sta puntando verso di noi Grazie